Nuovo appuntamento con Spazio Notizia. La cronaca in primo piano, partendo da Palermo, dove i carabinieri hanno tratto in arresto un giovane ladro che aveva rubato uno scooter elettrico. Il giovane però, come detto, è stato prontamente bloccato e arrestato. I carabinieri della stazione Crispi hanno arrestato un 24enne del posto per furto aggravato. I militari dell'arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati fermati da una ragazza, la quale ha riferito che poco prima le avevano rubato uno scooter elettrico di sua proprietà parcheggiato davanti al suo esercizio commerciale. Dopo una breve descrizione del veicolo, i carabinieri hanno avviato le ricerche, mettendosi sulle tracce del ladro. Da lì a poco, nel quartiere Borgo Vecchio, hanno individuato il mezzo spinto a mano da una persona. Accertato che si trattasse dello scooter rubato, i militari hanno proceduto al sequestro del mezzo, poi riconsegnato alla proprietaria e all'arresto del giovane. Su disposizione del pubblico ministero, il 24enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, al termine del quale il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto. Ci spostiamo a Catania. La polizia ferroviaria ha intensificato i controlli alla stazione nel corso delle festività natalizie. L'ultimo bilancio parla ovviamente di sanzioni, ma anche di due persone denunciate. Vediamo perché. 389 persone controllate, due indagati, un veicolo ispezionato, quattro contravvenzioni elevate e 28 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione. E questo è il bilancio dell'intensificazione dell'attività condotta dalla sezione Polfer di Catania durante le giornate festive, al fine di aumentare la percezione di sicurezza fra tutti i viaggiatori in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite. Nella fattispecie, gli uomini e le donne della sezione Polfer, sotto il coordinamento della centrale operativa compartimentale della Polizia Ferroviaria della Sicilia, e grazie anche al supporto dell'unità cinofila della Questura di Catania, intervenuta in occasione dei controlli straordinari della quindicesima giornata, denominata Stazioni Sicure, hanno effettuato maggiori controlli che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un 48enne pregiudicato, il quale, dopo aver attraversato i binari della stazione, alla vista degli agenti, che lo avevano prontamente raggiunto, ha mostrato un evidente stato di agitazione, tanto da indurre i poliziotti a perquisirlo, rinvenendo, all'interno di uno zaino in suo possesso, un'arma bianca, ovvero un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19 centimetri, successivamente sequestrato. L'uomo, oltre a essere stato sanzionato amministrativamente ai sensi del regolamento di polizia ferroviaria, è stato allontanato dalla stazione con relativo ordine ai sensi della normativa sul daspo urbano. L'attività degli agenti della sezione Polfer di Catania ha portato alla denuncia di un altro soggetto che, a seguito di indagini, arricchite anche da un'attenta analisi delle immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza, è stato riconosciuto quale autore di un furto di attrezzature da lavoro avvenuto nei mesi scorsi. Infine, i poliziotti hanno elevato sanzioni amministrative a carico di un centauro, al quale è stato sequestrato il motociclo poiché sprovvisto di polizza assicurativa, e di un altro soggetto sorpreso a esercitare la professione di tassista abusivo nelle pertinenze della stazione ferroviaria. Per lui è scattato l'ordine di allontanamento dai luoghi ai sensi della normativa vigente. Restiamo a Catania, dove un 44enne è stato individuato, identificato e arrestato dalla polizia. Su di lui, infatti, pendeva un mandato d'arresto europeo. I poliziotti della squadra volante della questura di Catania, durante il servizio di controllo del territorio, transitando per via Santissima Maria Assunta, angolo via Villa Scabrosa, hanno sottoposto ad accertamenti un veicolo che si aggirava con fare sospetto. Dopo aver bloccato il mezzo, hanno identificato il conducente, un 44enne pregiudicato catanese. Dagli accertamenti eseguiti, è emesso che il soggetto risultava destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere ai fini dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo per il reato di rapina aggravata, provvedimento emesso dalle autorità tedesche nel 2019. Pertanto, espletate le formalità di rito, il 44enne è stato associato presso la casa circondariale di Piazza Lanza a Catania. Due invece gli arresti effettuati dai carabinieri a Trapani. Si tratta di due malviventi che stavano tentando di commettere un furto all'interno di un distributore di carburanti. Ma, come detto, sono intervenuti militari dell'arma. I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato, in flagranza di reato, due pregiudicati trapanesi di 25 e 37 anni, mentre stavano tentando un furto presso un distributore di carburanti. I militari dell'arma, impegnati in un servizio di perlustrazione notturno, nel transitare nei pressi della stazione di servizio di Paceco, hanno notato due persone con felpe e con cappuccio davanti la colonnina self-service del distributore, senza che fossero presenti auto da rifornire nelle vicinanze. Insospettiti hanno quindi deciso di intervenire e, alla loro vista, i due si sono dati alla fuga in un canneto, venendo poi bloccati proprio dai carabinieri. Dalla successiva perquisizione personale, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro numerosi arnesi atti allo scasso, compreso un flex che i due malviventi stavano utilizzando per forzare la colonnina del self-service. A seguito della convalida dell'arresto, avvenuta nella giornata successiva, i due sono stati sottoposti, uno agli arresti domiciliari, l'altro all'obbligo di dimora nel comune di Trapani. Restiamo nel Trapanese, in questo caso la notizia arriva da Mazzara del Vallo, dove i controlli effettuati dai carabinieri hanno portato alla denuncia di sette persone. Vediamo perché nel nostro servizio. Durante i servizi di fine anno, i carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo hanno eseguito una serie di servizi di controllo denunciando sette soggetti per vari reati. Nello specifico, durante i controlli a persone sottoposte a misure alternative, due uomini e una donna, rispettivamente sottoposti agli arresti e alla detenzione domiciliare, non sono stati trovati in casa durante il controllo, ma sono stati rintracciati poco dopo per le vie della città, mentre rincasavano sprovvisti di autorizzazione. Due mazaresi di 22 anni e una ragazza di 20 sono stati invece denunciati in quanto presunti responsabili del furto avvenuto ai danni di un autolavaggio a gettoni, in quanto sorpresi a danneggiare le macchinette cambia soldi e le macchinette per la somministrazione di bevande e cibo posizionate all'interno dell'attività. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Infine, durante dei controlli alla circolazione stradale, un giovane, classe 2006, è stato denunciato per ricettazione di un motociclo. A Vittoria la polizia ha invece eseguito due misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti accusati di maltrattamenti in famiglia e nello specifico maltrattamenti nei confronti delle mogli. I poliziotti del commissariato di Vittoria hanno dato esecuzione a due misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e di vieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico emesse dal GIP presso il Tribunale di Ragusa nei confronti di due pregiudicati vittoriesi responsabili del reato di maltrattamenti in famiglia. Nello specifico, per il primo soggetto, tale provvedimento è scaturito dalle numerose reiterate condotte di maltrattamenti poste in essere dallo stesso nei confronti dell'ex moglie e dei figli minori e denunciate dalla donna presso gli uffici della Polizia di Stato. Mentre per il secondo, anche lui pregiudicato, è stata emessa un'altra ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, ovvero l'ex moglie, con applicazione del braccialetto elettronico emessa dal GIP presso il Tribunale di Ragusa ed eseguita dai poliziotti del commissariato di Vittoria. Il provvedimento cautelare è conseguenza delle numerose e reiterate condotte di maltrattamenti in famiglia e tentata violenza sessuale poste in essere dal pregiudicato nei confronti dell'ex moglie, reati anche in questo caso denunciati dalla vittima presso gli uffici del commissariato di Vittoria. I controlli della Polizia ad Acireale e a Cicatena siamo ovviamente nella Catanese. Sono state elevate sanzioni per oltre 8 mila euro. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. In occasione delle festività natalizie, la Questura di Catania ha intensificato il dispositivo di controllo del territorio con l'obiettivo di assicurare la prevenzione e la repressione di furti e rapine. I controlli effettuati dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale hanno interessato i comuni di Acireale e Aci Catena. Nell'ambito delle attività di monitoraggio sono stati eseguiti diversi posti di controllo grazie ai quali è stato possibile realizzare un filtraggio degli autoveicoli da controllare in modo da indirizzare l'azione di accertamento a casi sospetti per i quali è ritenuto necessario un approfondimento. Sono state sottoposte a controllo 42 persone e monitorati 18 veicoli con diverse sanzioni amministrative combinate a seguito dell'accertamento di contravvenzioni alle norme del codice della strada. Un uomo è stato fermato dai poliziotti mentre era a bordo di uno scooter privo della copertura assicurativa e della patente di guida in quanto mai conseguita. Un approfondito accertamento ha poi consentito agli agenti della Polizia di Stato di rilevare che tali infrazioni gli erano state già contestate nel 2019 per il medesimo veicolo che tra l'altro risultava ancora sottoposto a fermo e sequestro amministrativo. Alla luce di quanto riscontrato, il mezzo è stato confiscato e affidato in custodia giudiziale. Le sanzioni relative alle diverse contravvenzioni contestate ammontano invece a circa 8.500 euro. Ruba un orologio l'aeroporto di Catania, parte per le vacanze, poi rientra ma trova la polizia ad attenderla. Una donna è stata denunciata a Catania. Personale di polizia giudiziaria della Polizia di Frontiera in servizio presso l'aeroporto di Catania ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Etneo una 59enne responsabile del furto di un costoso orologio in oro avvenuto presso l'aerostazione di Catania qualche giorno prima ai danni di una passeggera diretta in una località del nord Italia. Nello specifico, ricevuta la denuncia di patito furto, gli operatori di polizia attraverso approfondite indagini effettuate con l'aiuto dei sistemi di videosorveglianza, hanno accertato che il furto era stato commesso dalla sopracitata donna, la quale, durante i controlli di sicurezza a cui si era sottoposta al fine di intraprendere un viaggio aereo per la Germania, prelevando la medesima vaschetta prima utilizzata dalla denunciante, si era accorta della presenza del costoso orologio e anziché consegnarlo al personale preposto ai controlli, lo aveva nascosto fra i propri indumenti, proseguendo poi l'iter di imbarco. Una volta accertata l'identità dell'autrice del furto, è emerso che a suo nome risultava esserci una prenotazione aerea di rientro a Catania. Gli agenti, dunque, nella giornata prevista del rientro della donna, hanno predisposto un servizio mirato, a mezzo del quale sono riusciti a individuarla, informandola della motivazione della loro presenza e chiedendo la restituzione del bene. La donna, vista si scoperta, ha restituito l'orologio che indossava al polso come se le fosse stato donato. Come detto, l'autrice del reato è stata poi denunciata in stato di libertà per furto aggravato. Cambiamo argomento. Via libera dalla regione siciliana alla riqualificazione di 13 strutture sportive presenti nell'isola. Via libera dalla regione siciliana alla riqualificazione di 13 strutture sportive dell'isola. Gli interventi saranno possibili grazie alle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo e dell'Assessorato Regionale del Turismo, per un totale di 3 milioni e mezzo di euro. I primi progetti esecutivi di ristrutturazione, riqualificazione e messe in sicurezza riguardano le province di Messina, Catania, Agrigento, Ragusa, Siracusa e Palermo. Nelle prossime settimane a questi si aggiungeranno altri due interventi, le cui istruttorie sono in fase di completamento, destinati ai comuni di Sant'Agata di Militello, nel Messinese, e Modica in provincia di Ragusa, per un totale di circa 700 mila euro. Abbiamo condiviso, ha dichiarato l'Assessore Regionale allo Sport, Elvira Amata, le esigenze delle amministrazioni comunali. Sono certa che questa iniziativa, possibile grazie alla strettissima sinergia ormai fortemente consolidata con gli uffici del Ministero del Turismo, costituirà un'ulteriore occasione, tra l'altro, per implementare significativamente anche l'attrattività turistica degli impianti che potranno essere utilizzati, ha concluso l'Assessore. Ci fermiamo qui ma ci ritroviamo più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. A dopo. Grazie.